Oggi presentiamo questo disegno di legge sull'educazione al cibo, o meglio al valore del cibo all'interno della scuola. Noi pensiamo che sia il tempo oggi, perché anche in conclusione di Expo, di raccogliere questo grande tema della questione alimentare per portare all'interno della formazione dei bambini che saranno i cittadini domani. La questione alimentare sta diventando la questione centrale per questo nostro mondo. Ci sono diverse valenze, c'è un approccio complesso al cibo, ha un valore nutrizionale ma non solo, un valore culturale, ambientale e questo deve appartenere a una cultura diffusa che i nostri bambini devono avere per affrontare le tematiche dei prossimi anni. Benissimo, grazie.